I carabinieri in un casolare di contrada a Piana del Signore sequestrarono armi e nella sua abitazione vennero trovati diversi grammi di cocaina e una pistola a calibro 7,65 con matricola a brasa. Sono però cadute alcune delle accuse nei confronti del quarantenne Giuseppe Alessandro Antonuccio, il GUP del Tribunale di Caltanissetta, al termine del giudizio abbreviato, gli ha imposto quattro anni di reclusione a fronte dei dodici chiesti dai PM della DDA di Caltanissetta. Il giudice dell'udienza preliminare ha escluso responsabilità sia sul fronte della droga sia su quello dell'eventuale metodo mafioso contestatogli nel corso dell'inchiesta dopo le dichiarazioni arreste da almeno due collaboratori di giustizia. La condanna è stata pronunciata solo per il possesso delle armi e delle munizioni ritrovate sia nel casolare di campagna che nell'abitazione del quarantenne. Insieme a lui vennero arrestati due cittadini stranieri per i quali però si procede in separata sede. I legali di difesa, gli avvocati Laura Caci e Boris Passorello hanno contestato la ricostruzione della DDA Anissena escludendo la vicinanza agli ambienti mafiosi di Antonuccio e mettendo in discussione la presunta attività di spaccio che gli veniva attribuita. Una linea che ha indotto il GUP a pronunciare un verdetto certamente meno pesante. Furono i carabinieri a ricostruire l'eventuale presenza delle armi nel casolare. Poi l'ispezione venne estesa direttamente all'abitazione del quarantenne e venne appunto ritrovata l'arma, una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa. Per Antonuccio scattò anche l'arresto e la detenzione in carcere.